Entrano nella fase 2 anche gli uffici immigrazione e passaporti della Questura di Padova. Da lunedì quindi una parziale riapertura per gli uffici per la riconsegna dei documenti già pronti. I cittadini potranno accedervi su prenotazione. Contatteremo noi l'ufficio immigrazione attraverso un sms che arriverà al cittadino straniero per presentarsi a ritiro e invece per i cittadini italiani che non hanno a lasciarci il sistema di prenotazione e i cellulari li contatteremo via posta elettronica o via telefono se ci hanno lasciato il numero di telefono. Quindi diremo noi quando venire da noi a presentarsi per evitare assembramenti e problemi che comportino la messa in pericolo della sanità pubblica. Gli orari dell'ufficio migrazione garantiremo la mattina. Comunque siccome gli manderemo direttamente nell'avviso anche l'orario in cui presentarsi proprio per garantirne il distanziamento sociale. Per entrare sarà obbligatorio usare guanti e mascherine. Ricordiamo a tutti che per presentarsi in un ufficio pubblico bisognava usare la mascherina e i guanti. Questo è fondamentale. Il SAP, il sindacato autonomo di polizia, ha donato degli schermi protettivi per gli sportelli degli uffici. Un gesto per essere da stimolo all'amministrazione, dicono i rappresentanti dei lavoratori.